Quanto è stato difficile organizzare un evento che comunque avrà una ribalta importante con tutte le partite trasmesse in diretta dalla Rai? Sicuramente è stato molto difficile, ci siamo fatti apprezzare per quello che abbiamo fatto negli anni dalla federazione, di aver organizzato manifestazioni importanti come la World League, come la Final Four di Coppa Italia l'anno scorso, quindi abbiamo avuto questa fiducia, abbiamo raccolta e ci siamo messi in moto. Non è stato facile perché logisticamente bisognava organizzare sei squadre, i trasporti, l'alloggio eccetera, però fino adesso è andato tutto bene, speriamo che vada bene fino in fondo. Così al numero di naso la città risponderà? Secondo me sì, perché io penso che in questo momento Messina ha una grossa chance che è quella di vincere per la prima volta uno scudetto, quindi al di là di questo secondo me quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo dimostrato di essere sempre ai massimi livelli e siamo stati anche apprezzati molto dalla città, quindi io penso di sì. Pronostico? No, pronostico non ne faccio, speriamo intanto di vincere la semifinale, poi vediamo.